Buongiorno e bentrovati. In apertura di giornale andiamo subito negli Stati Uniti perché con l'apertura della campagna elettorale e la discesa in campo di Kamala Harris fa molto discutere la visita del premier israeliano a Washington, una visita estremamente divisiva. Netanyahu ha incontrato a porte chiuse Biden, il quale lo ha esortato ancora ad una tregua e poi ha incontrato anche Kamala Harris, la candidata in pector dei democratici, la quale ha detto non resterò in silenzio di fronte alla sofferenza di Gaza, immediata la reazione di Israele che definisce quelle della Harris parole che non aiutano il rilascio degli ostaggi. Israele ha il diritto di difendersi, ma come lo fa è importante. È il momento che la guerra finisca, non possiamo diventare insensibili alla sofferenza di Gaza. Parla così la vicepresidente è candidata in pector e del partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris al termine di un incontro di mezz'ora con Benjamin Netanyahu nel ceremonial office della Casa Bianca. Incontro da lei definito franco e costruttivo, in cui ha ribadito al premier israeliano l'importanza di chiudere l'accordo per il cessato il fuoco, riportare gli ostaggi a casa e confermato il suo impegno per una soluzione a due stati. Subito dopo il controverso discorso al congresso americano e prima del faccia a faccia con Harris, Netanyahu aveva incontrato anche il presidente Biden, l'accordo per il rilascio degli ostaggi e la tregua a casa, i due temi chiave del colloquio. Nelle prossime ore il primo ministro israeliano incontrerà Donald Trump a Mare Lago in Florida. Ufficializzato in diretta tv il suo ritiro dalla corsa alle presidenziali, deciso, spiega Biden, per salvare la democrazia americana, la campagna per la conquista della Casa Bianca entra nel vivo. Kamala Harris lancia il suo primo spot televisivo, apre il suo profilo TikTok che conquista subito oltre un milione e 600 mila follower e si dichiara pronta ad un dibattito con Trump accusandolo di fare marcia indietro perché dopo aver concordato un faccia a faccia per il 10 settembre su ABC ha chiesto che sia spostato su Fox. Ma Trump risponde assicurando che non ci sarà alcun dibattito con Harris fino a quando non sarà nominato ufficialmente dai deni come loro candidata. E intanto sempre negli Stati Uniti a Del Paso in Texas le autorità americane hanno arrestato due altissimi esponenti dei cartelli della droga. Uno è il figlio di El Chapo. Sono arrivati a Del Paso in Texas su questo volo privato e consegnati agli agenti della Federal Drug Administration. La DEA Ismael Zambada Garcia, 76 anni, nome d'arte El Maio, cofondatore del cartello Sinaloa, uno dei leader storici più potenti del narcotraffico in Messico, è stato arrestato negli Stati Uniti. Con lui c'era anche Joaquin Guzman López, figlio del Chapo. Zambada ha eluso la giustizia per decenni. Prima della sua cattura, il Paso non era mai stato in carcere. Su di lui gli Stati Uniti avevano offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che portassero all'arresto del 76enne. È accusato di traffico di cocaina, eroina, metanfetamina e fentanyl. Sulla cattura del boss del narcotraffico in Messico, la DEA non ha fornito ancora i dettagli di un'indagine molto difficile. Dopo l'arresto e l'estradizione di El Chapo, El Maio era diventato il leader indiscusso del cartello Sinaloa. Con lui è stato catturato anche Joaquin Guzman López, altra figura di spicco del cartello messicano. È il figlio di El Chapo, fondatore del cartello, che sta scontando l'ergastolo negli Stati Uniti. A differenza di Zambada, El Chapo era stato arrestato tre volte prima di essere estradato in America. Non si esclude che per la cattura di El Maio siano stati fondamentali alcuni dettagli che il figlio, primogenito Jesus Vicente Zambada, noto come El Vicentillo, ha rivelato al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. È un testimone protetto nel processo contro il Chapo. Se condannato per l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'esportazione e distribuzione di droga negli Stati Uniti, anche El Maio rischia l'ergastolo. Il Ministero della Salute brasiliano, ci spostiamo ora in Brasile, ha confermato due decessi dovuti alla febbre Oropuch nello stato di Bahia. La febbre di Oropuch è un'infezione virale tropicale trasmessa da moscerini e zanzare. Il primo morto è stato registrato il 17 di giugno. Il paziente aveva 24 anni e viveva a Valencia. Lunedì scorso è stato registrato un secondo decesso di una donna, secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero brasiliano. Fino ad oggi la letteratura scientifica mondiale non aveva riportato casi di decessi dovuti a questa malattia. Ora torniamo negli Stati Uniti, in California, perché più di 1.150 persone sono impiegate a spegnere un vasto incendio che per il momento ha distrutto. 50.000 ettari di un parco della città di Cico, più di 3.500 persone sono state evacuate. Come ha riferito il governatore Newsom, un uomo di 42 anni, sospettato di aver innescato la scintilla, è stato arrestato dopo che è stato visto spingere un'auto in fiamme in un burrone vicino all'origine dell'incendio. L'auto è completamente bruciata, propagando le fiamme che hanno provocato l'incendio all'interno del parco. La città si trova a soli 20 chilometri a ovest di Paradise, una città che fu distrutta da un enorme incendio nel 2018 nel quale morirono 85 persone. Ora in Italia con la politica e le acque agitate della maggioranza, mal di pancia sull'autonomia differenziata, il presidente della Calabria Occhiuto di Forza Italia si oppone alla legge Calderoli e chiede al governo una moratoria al referendum. Il Meridione direbbe di no. Il referendum sull'autonomia sarà una sconfitta, non è più avvertita come una priorità dai cittadini, resta un retaggio di antiche battaglie dei gruppi dirigenti del Nord. A dirlo non è un esponente dell'opposizione ma il vice segretario di Forza Italia e governatore della regione Calabria, Roberto Occhiuto. Propongo una moratoria, il governo per il momento eviti intese con le regioni, anche su materie non lep, i livelli essenziali delle prestazioni, anche perché, aggiunge Occhiuto, non c'è alcuna urgenza. Una richiesta legittima, prima vanno fatti lep, la posizione del numero uno azzurro Tajani, un modo per non smentire il suo governatore ma anche per distinguersi dagli alleati leghisti. In mattinata il ministro Calderoli farà un'informativa in consiglio dei ministri. Il tema moratoria non sembra scaldare il centrodestra ma anche dal carroccio si tenta di tenere bassi i toni. Occhiuto legittimamente avanza delle rivendicazioni più che comprensibili ma i lep saranno garantiti, dice Rossano Sasso che della Lega è un esponente di spicco del sud. Plausi Occhiuto dall'opposizione impegnata a raccogliere le firme per il referendum. Da registrare ieri anche l'ok del gruppo di alto livello al piano strategico per le zone economiche speciali che verrà presentato in mattinata a Palazzo Chigi e che non piace al centrosinistra che parla di grave quadro di incertezza regalato alle imprese che hanno deciso di investire al sud. Intanto il disegno di legge sulla concorrenza torna a Palazzo Chigi e sarà in cima all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri in programma per questa mattina. Dopo la pausa di riflessione torna oggi sul tavolo del governo il disegno di legge sulla concorrenza. Il provvedimento era stato messo in stand by per tensioni interne alla maggioranza sul nodo autostrade e pedaggi e che ieri invece il vice premier e ministro dei trasporti Salvini ha preannunciato come primo punto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe in via di definizione con una nuova impostazione delle concessioni autostradali per rendere più facili i lavori e per regolarizzare i pedaggi che sono diversi nelle varie tratte. L'obiettivo, spiega Salvini, resta lo stesso. Tariffe più omogenee sul territorio nazionale e interventi di manutenzione a modernamento garantiti senza stangate per gli automobilisti al casello, eventualmente spalmando su più anni i costi della manutenzione straordinaria. Il punto è come farlo senza innescare nuovi contenziosi con Bruxelles. Proprio la richiesta da parte dei tecnici del Ministero per gli Affari Europei guidato da Fitto di approfondire questi aspetti con l'Unione Europea aveva stoppato il percorso del disegno di legge nel Preconsiglio di lunedì scorso e non senza polemiche. Dalla Commissione Europea sarebbero emerse infatti resistenze rispetto all'ipotesi di creare una tariffa autostradale unica. Ora la cronaca con l'arresto a Roma di due ragazzi poco più che ventenni per la morte di una 81enne colpita da proiettili che non erano indirizzati a lei. Si è trovata nel mezzo di un regolamento di conti tra bande di spacciatori rumeni Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni, uccisa il 23 maggio a Ponte di Nona nella periferia romana, vittima innocente di un proiettile esploso per vendetta. A due mesi dal delitto la polizia ha arrestato due giovani poco più che ventenni che da una Fiat 500, come si vede da queste immagini, esplosero cinque colpi contro i componenti di una banda rivale. Trovando però sulla traiettoria l'auto su cui si trovavano Caterina Ciurleo e un'amica rimasta illesa. I due giovani sono ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario. La polizia le aveva già identificati a pochi giorni dal delitto ma non aveva elementi sufficienti per il fermo. Poi una raccolta di testimonianze su una rissa avvenuta in una zona di spaccio poco distante dal luogo dell'acquato. I due indagati sarebbero stati affrontati da un gruppo rivale e avrebbero deciso di vendicarsi, inseguendo la golf grigia, vero bersaglio del ride. Sulla traiettoria degli spari però è finita una vittima innocente. E tra ingenti misure di sicurezza prendono il via questa sera le Olimpiadi a Parigi. Per la prima volta l'inaugurazione non sarà in uno stadio ma sull'acqua, sulla Senna e a Parigi è arrivato ieri il presidente Mattarella. Si inizia a fare sul serio. Le Olimpiadi hanno già preso il via. Questa sera ci sarà la cerimonia ufficiale d'apertura e i giochi entreranno nel vivo, con tutti gli atleti partecipanti pronti a lottare per una medaglia. Tra questi sono pronti anche gli azzurri che ieri hanno ricevuto la visita di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha incontrato la spedizione tricolore. Dopo i saluti istituzionali ha colto l'occasione per unirsi nel messaggio contro la guerra espresso con il muro della tregua, una parete bianca su cui Mattarella ha posto la sua firma. Poi finalmente l'incontro con la delegazione azzurra, entusiasta per la visita del capo di Stato, felice di essere presente al villaggio olimpico per dare il proprio sostegno ai nostri atleti. Dopo il pranzo in messa con gli azzurri, Mattarella è stato coinvolto in altri impegni istituzionali e ha presenziato la cena di gala della presidenza francese per i capi di Stato che si è tenuta al Museo del Louvre. Oggi si terrà invece l'inaugurazione ufficiale di Casa Italia con il taglio del nastro, mentre il grande evento sarà questa sera sulla Senna per la cerimonia d'apertura dove l'Italia sfilerà sullo stesso battello, insieme all'Islanda, a Israele e a Giamaica. Domani si assegneranno le prime medaglie, nel nuoto si correranno le due staffette della 4% e Centorana con Nicola Martineghi e per il ciclismo in programma le crono femminile e maschile, con gli attesissimi Filippo Ganna ed Elisa Longoborgini e ci saranno i primi incontri di scherma e judo. Bene, si chiude così il nostro telegiornale, dopo di noi il meteo con Paolo Sottocorona a seguire il dibattito di Omnibus condotto in studio da Flavia Fratello, poi Andrea Pancani con Coffee Break, il prossimo telegiornale alle 13.30. Tutti voi una buona giornata e arrivederci.